L'ora, quando andiamo a casa? Presto. Vieni più vicino. Domani ci sveglieremo a Parigi. Parigi. Iniziamo prendendoci per mano. Stasera non vedrete uno spettacolo convenzionale. Chiuda gli occhi. Ma vivrete un'esperienza fuori dal comune. Che cosa vede? Lo sento. Dei passi. Signore. Signore, si sente bene? Come ci è riuscita? Dopo ieri sera mi è venuta un'idea. Io vorrei filmarlo. Potrei farvi diventare famosi a livello internazionale. E questo è possibile solo con il cinema. Potremo annunciare che il ruolo sarà interpretato da una vera sensitiva. Sarà una grande pubblicità per il film. Davvero faremo un film? È una grande opportunità. Abbiamo bisogno di soldi. Godiamoci la finché dura. Da quando sei entrata nella mia vita io mi sento diverso. Non possiamo accontentarci di un'intuizione. Bisogna affrontare questi avvenimenti scientificamente. E alla fine noi sapremo. Noi non vi riveleremo niente che voi non conosciate già. Kate. Kate. C'è qualcuno qui disposto a rispondermi? Sei diventato completamente pazzo. Ma non è vero. Ho cercato di fare una cosa mai vista. Qui c'è uno spirito. È uno spirito ferito. Non si aspetti nulla. Speri tutto. Ma parliamo di voi. Siete pronti. Siete pronti per la verità. È straordinario.